Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, una giornata di venerdì che vedrà ancora la flussa di correnti fredde da nord con venti di tramontane grecale, qualche residuo piovasco a ceno di instabilità sul medio basso adriatico e basso tirreno. Attenzione ai fiocchi di neve sull'Appennino meridionale, ancora possibili a quote molto basse. Il nord è ancora protetto da tutta la catena alpina che fa da scudo all'arrivo di questi fronti nordatlantici. Andiamo a vedere la previsione per quanto riguarda la nuvolosità, una giornata nel complesso buona, ancora un po' di variabilità sul medio basso adriatico, appennino e basso tirreno. L'ultima grafica ci conferma invece, a parte qualche notte instabile, come dicevo sul basso adriatico e sud, il sole prevalente sul medio alto tirreno e le regioni settentrionali, una bella giornata, al nord tra l'altro anche poche nebbie. Freddo però di notte si va sotto lo zero in Valpadana. Dettagli come sempre sull'App gratuita di Trebi Meteo.